andiamo a fare un picnic mamma ma non dormiamo oggi perché siamo di giorno facciamo il pranzetto oggi un picnic di pranzo andiamo a mettere i libri i libri? da leggere? si ah è vero e vabbè dai nasconderemo una storia invece di leggere il libro vasta tata yoummas如果 a wishing a something god tata terra Wow, ha fatto un tento... While we everybody have a tant competitive. Sì, che c'era un po' però buona cosa. Welcome, Yuma. Do you want to eat? Yes. Do we eat? Come here. Non, lo so. Allright, so we go to the first and after the instant, we'll let it rip and the mashu marzo. Yuma, do you want to eat a chocolate? Cosa è l'onigiri? Ah non so che cos'è l'onigiri fa durire il sangue Il sangue? Sì bravo tesoro fa durire il sangue l'onigiri così non esce più Non c'è questo? Ah questo è un cani Cosa è l'onigiri Sì c'è la scuola Cosa è lì Cosa è lì Sì c'è lì Sì, è vero, non sto scendendo più il sangue. Guarda! C'è il gormito nello zaino. C'è il gormito! C'è il gormito! Panski! C'è il gormito! C'è il gormito? C'è il gormito! C'è il gormito! No, non lo mangia, non lo mangia, non ti preoccupare. Posso mangiare io l'onigiri tuo? No. No? No. Ecco mamma, no. No. C'è? C'è questo? C'è il mio djdettatore? C'è un bel davanti. C'est matofajari in questa pagina. C'è il mio d'agri di parte. C'è il mio d'agri, ma un amore. C'è il mio d'agri di proteccia. C'è il mio d'agri sono capace. C'è il mio d'agri è il mio d'agri di vero? E' un piccolo acco. Ketchup. Papà! Come lo sentiamo? Il fuoco? Sì. Il fuoco dobbiamo trovare un posto che sta meno esposto al vento. Quindi dobbiamo riscendere giù per la discesa. Dopo, quando abbiamo finito di mangiare. Chiudiamo la tenda. Riprendiamo tutti i nostri bagagli. Scendiamo giù dalla discesa. E lì c'è un punto un po' più riparato. Mettiamo giù solo i teli per sederci. E facciamo il fuoco lì. E facciamo il marshmallow. Ma questi sono i nostri rami. Sì, portiamo anche i rami. Ma sono ancora più pesanti. Io non ce la faccio. Tu non ce la fai? Sì. Anche mamma mi deve aiutare. Eh sì, riprendiamo tutti insieme. Ma tu devi tenere questo. Sì hai ragione. E questo filo e questo. Allora io penso alla tenda e tu e mamma pensate alla legna? Ok. Sì. 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 guarda si accende da solo ah davvero si accende da solo si accende da solo ecco finchè non diventa un po' un po' più scuro è un po' ratto guarda 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 come diventa bello ecco fatto miste 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 wow oishisoo aci 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 ma è nносita non miusica sape un po' Yah отдельse ma è molto bello è molto bello è molto bello soffia bene prima di mangiarla perchè è molto bello ho detto che è bello soffia bene soffia si è scottato no 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 guarda te lo soffia papà soffia ancora un po' soffia 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 ancora un po' che si raffredda bene guarda 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 Sì, è buono! Sì! Buon mai! Sì! L'alHostia genesi Ah crying E lo voto! Ai le mie Genially Dì Lasso Ciao! Ciao! Oicino! Ciao! Ciao!